Aumento dei posteggi in Viale Varese. Tra poche ore verrà svelato un nuovo progetto. Nei giorni scorsi ha fatto e sta facendo ancora discutere il progetto dell'azienda Nessie Maiocchi che prevede di riqualificare l'area di Viale Varese aumentando i posteggi a raso di circa 80 unità. Un dibattito aperto tra chi sostiene non solo la bontà ma anche la necessità di questo intervento e chi invece, come le associazioni ambientaliste, legambiente e WWF in testa, contestano l'utilità dell'aumento dei posteggi e del progetto nel suo complesso. Ora però spunta un nuovo progetto, o meglio, viene annunciata una nuova proposta con la convocazione di una conferenza stampa per lunedì mattina. Un progetto che propone l'aumento dei posteggi ma evidentemente è diverso rispetto alla proposta di Nessie Maiocchi. Prevederebbe infatti l'intervento diretto del Comune, il quale potrebbe realizzare l'opera pubblica e mantenere il gettito derivante dalla sosta dei veicoli. Firmato dagli ingegneri comaschi Davide Zizolfi e Gianmarco Tavola disegnerebbe nove posti in più del progetto Nessie Maiocchi e sembra a un costo inferiore. I dettagli verranno svelati lunedì alle 12 nel corso di una conferenza stampa fissata all'interno del collegio Gallio di Cuomo a due passi da Viale Varese.